Il popolo di atleti siamo in materia di fitness, scusate, questa è la scarpa, questa è la scarpa, possiamo, posso, posso alzarmi? Sì, bene, la pallina, voglio fare anche io l'esercizio della pallina, allora prendo, faccio così, probabilmente sentirai dalla punta, ecco dall'alluce, probabilmente potrai sentire, soprattutto a livello della pallina, ecco bene, meglio il solletico che il dolore, potresti sentire dei punti dolenti, allora se siete persone ginniche sicuramente non sarete come me, mi metto accanto a lei così sembro ginnica anch'io, vediamo Valerio Bergesi. Il mondo dei ragazzi che a giudicare delle notizie che leggiamo, le dipendenze più pericolose, quelle di alcol e come superare, come aiutare dentro casa o tra amici questo cattivo modo di pensare a dire che è in famiglia che ci si accorge della problematica e in famiglia che si risolve l'80% della vicenda della questione, perché in famiglia si devono attuare quelle modalità preside che facevano sesso nei bagni della scuola, ha stupito molto che lei sia stata sospesa per quattro giorni e lui è uno, esatto, si vede che chi lo sa, questo andrebbe chiesto al preside. Allora un minuto al TG, oggi abbiamo avuto ospite il direttore di Vanity Fair, Luca Dini, c'è un braccio in questa posizione e il mio braccio è quello, quindi non c'è... Il cuore è così. È così e ha fatto il disegno. E ha fatto il disegno. Questo è ovvio. Ma questo dimostra una cosa, che i bambini hanno una capacità critica. Ogni singola parte del corpo umano, sia tre, Stadio Olimpico, Roma, arrivano da tutta Italia a vedere. Grazie a Fabio Di Gioia, un bacio speciale agli amici della Lega del Filodoro, un bacio speciale a voi e un buongiorno cielo per tutto il giorno, fino a domani, quando ve lo ripeteremo. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.